bella regà qua è Savix che vi parla bentornati e benvenuti oggi vi porto di nuovo un metodo per andare a sbloccare i ragazzi una camicia segreta che è uscita col nuovo dlc funziona sia per il maschio che per la femmina ragazzi ma solo per next gen nuova versione di gta adesso vi faccio vedere cosa dovete fare dovete andarvi a cercare ragazzi nel vestiario lo slot numero 21 e cercare sopra abiti e poi dovete andare ragazzi sull'ultimo slot il numero 65 dovrete andare a indossare questa giacca qua ma adesso vi faccio vedere una cosa prima di indossarla se noi torniamo indietro adesso andiamo su camicia casual come vedete non c'è niente la prima è questa dello ieti quindi non vi sto a prendere per il culo adesso torniamo indietro andiamo di nuovo su sopra abiti ci indossiamo la numero 65 torniamo indietro raga andiamo su le camicie casual e sbada bam ragazzi comparirà questa nuova camicia segreta gratis quindi lasciate un like lasciate un commento supportate Savix supportate il canale ragazzi e iscrivetevi e abbonatevi raga per chi invece ha comprato il magic slot in passato guardate che bomba quindi vi ripeto lasciate un like abbonatevi ragazzi mettete sempre like a tutti i video per far sì che vanno tra i consigliati bella raga alla prossima spada bam ciao ciao ciao